E consolatevi, non siete voi, non foste, non sarete la prima, né l'ultima. Guardate, questo non picciol libro è tutto pieno dei nomi di sue belle. Villa, ogni borgo, ogni paese è testimone di sue donnesche imprese. Ma la mia, il catalogo è questo, delle belle che hanno il padronnino, un catalogo è che ho fatto io. Osservate, leggete con me, osservate, leggete con me. In Italia 640 In Namania 231 Cento in Francia, Turchia, non, no, mai di Spagna Mai di Spagna, son già mille e tre Cento in Francia In Namania 231 Cento in Francia, in Turchia, non, no, mai di Spagna No, mai di Spagna sono già mille e tre, mille e tre, ma fra queste contaglie e cameriere, le cittadine, le fontesse, i maronesse, i marchesani, i principessi, e da tutti e tutti i grado, 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 la mia vita è la mia vita, la mia vita è la mia vita, 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 na Всему! Nella grande maestà 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada